Partiranno entro la fine di novembre le lezioni del primo corso dell'ITS Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio Puglia nella nuova sede di Grottaglie. Il titolo del corso è Tecnico superiore delle tecnologie produttive per l'aerospazio e focalizza l'attenzione sui materiali compositi, sull'automazione, sull'additive manufacturing e sulle tecnologie dello spazio. Un corso realizzato con la collaborazione di Confindustria Taranto che si avvale della partecipazione di imprese, università, centri di ricerca, scuole, enti di formazione ed enti locali, come spiega Antonio Ficarella, presidente dell'ITS Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio Puglia. Si tratta di formare le nostre giovani e i nostri giovani a essere tecnici in questi ambiti super specializzati con dei percorsi formativi che sono della durata di due anni ma di cui oltre un anno viene svolto in azienda. Quindi sono percorsi formativi completamente gratuiti, anzi c'è anche la possibilità di concedere delle borse di studio che consentono veramente di impadronirsi di una capacità professionale di alto livello tecnologico. Il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, sostiene che si tratti di un'opportunità non solo per i giovani diplomati ma per l'intero territorio. L'ITS dell'aerospazio è un'opportunità per il nostro territorio, per i giovani e anche per non solo i giovani. Dico questo perché anche chi momentaneamente è in cassa integrato o fuori dal mondo del lavoro, anche se ha 40 anni o più, può approfittare perché l'ITS dà questa possibilità. Poi noi contiamo di svilupparne come è stato fatto in altre province anche della Puglia stesso, di sviluppare anche un'altra sede a tanto e man mano perché? Perché c'è bisogno di capitale umano soprattutto specializzato in questo settore.